Ciao ragazzi, qui Ema dei Lost Forgotten Gamers e bentornati a Mystic Quest, quinta puntata. Abbiamo la catena e stiamo andando a trovare Tifa. E questi stronzi non si fanno niente con la catena. Li spingerò? Ah, io li ho passati attraverso proprio grezzamente. Questa è la stanza del bancone, carina. Alcuni nemici sono immuni alla catena. Ok, andiamo di qua. Questo buco non mi ispira tanto. Meglio non andarci a finire. Mazziamo quella cazzo di zucca. Level up divino. Vediamo un po' cosa possiamo aumentare. Power, Wisdom, Will. Ragazzi, io aumenterei Power. Voglio un po' più di potenza adesso. Si, Wisdom è la maggiore, aumento sempre poco. Sono più un tipo da corpo a corpo. Allora, là di giù ci arrivo? No. Devo aspettare che la barra sotto si riempia. Vedete come corre? Questa catena è sempre veloce. In base alla will, alla ponta che io assegno durante la crescita del personaggio. Quando è piena, la catena sarà più lunga. Io arrivo sopra. Allora, qua si scende. Andiamo a vedere a destra. Si riempiano le cose. Andiamo giù. Ma qua sembra che io ci vengo. Scusate. Ma certo. Passaggetto chiuso bastardo. Sentite. Bastardo. Bastardissimo. Vi tocca sempre controllare. Ah, ti ammazzano i topi con la catena. Noi che ragazzi dicevamo. Tocca sempre controllare quei passaggetti, i muri. Eh, è vero, vi faccio perdere tempo. Poi devo sprecare un matto, ma meglio che no. Aspettiamo qualche secondo. Dai che è pieno di will. Vai. Ragazzi, io andrei di qua, vai. Vediamo, quanto accetta rumorino? No. Aio. Con il suone. C'ho il magic? Sì, chi vuole. Andiamo giù. Sentiamo? Niente. Non vorrei che vi lascia da qualche cosa. Oddio ragazzi, qui la strasi di porca. Sempre di più. Sono sempre più labirintici questi dambi. Mamma mia. Mi fa rosicare se mi perdo qualche arma. Aio. Proviamoli qua. Delle armature, qualcosa di buono. Sicuramente qualcosa ci starà. Chissà se questa è una strada... Una strada sensata. Cos'è? Pillow. Giusto per giocare. Pillow. Ma questa è la stanza di sopra io... E' la stanza di sopra? Si sta ricongiugendo? O mi sbaglio? Mori dopo? Mi pare proprio di sì. Ma che è la stanza di sopra? Ragazzi, non c'è tocca avendo più niente. Fatemi ammazzare questi topi. Bastardi. Chiur. Eh sì. Ma come c'è passo? Ma... Vediamo un po' se con... Con la spada questi... Muogliono. Bro... Ma neanche quella spada. Scusate. Quaccetta. Vediamo quaccetta. Oddio, sono proprio mortali questi reggi. Mi rimetto la catena. Mi rimetto la catena. E gli sparo... Magari gli sparo col ferro. È un po'... Sono deboli al fuoco. Ah! Divino! È vaffanculo. Muogliono. Che lasciano. Wisdom. Saggezza. Questi cristalli mi pare che aumentassero... Mi pare che aumentassero... Mi pare che aumentassero... Io li provo, non mi ricordo. Lo aumentassero momentaneamente o perennemente? Oh, cristall. Vediamo un po', ragazzi. Wisdom. Che ha fatto? Ma non è che aumentano veramente le grad... Ah, Wisdom. Vediamo un po'. Eh, che ha fatto? Ha aumentato momentaneamente il Wisdom? Vediamo un po' invece il... Crystal, questo qua. Se lo uso, che fa? Sì, questo aumenta la barra della volontà all'istante. Ma chissà, chissà. Docca indagare. Ma... Poi ci vengo io. Voi direte, eh. Eh sì che ci vieni. Ok, allora vediamo. Prima siamo andati giù? No, siamo andati a destra. Quindi andiamo sopra. Ci hanno fatto far giro, in pratica. Ok, usiamo il Mattock. Spacchiamo. Ok, qui non ci siamo stati. Magic. Un bauletto da spostare. Come succederà? Eh eh. Botola e... Passaggio a destra. Andiamo a destra, va. C'è una porta sopra. Gli scheletri. Sentite ragazzi, io questi li voglio massacrare. Sprecherò. Io ho un po' di punti, ma li voglio massacrare. La ricerca, no? Divino. Wisdom. Boni. Se becca il topo, vai io. Mettiamoci un po' di cure. È passato attraverso le cose, bastardi. Che male l'attacca? Niente, good. Ma lo vedete qua, faccio il giro un'altra volta? Eh sì. Sono là. Quindi mi avete fatto spregare il Mattock. Vabbè io li passo da qua, non li passo da là. Sprechiamo un altro Mattock. Ma tutte strade... Tutte strade per farci perdere tempo, in cambio. Ok. Mettiamoci il cure. Andiamo giù. Sempre più giù stiamo andando. Qua sembrerebbe chiusa la strada, ma questi due cosi... Queste due anfore... Queste due anfore si possono rompere. Vediamo cosa c'è. Passaggetto. Passaggetto. Allora, mettiamoci cure. Che vaffanculo ho spiegato. Andiamo a destra. Le strade nuove cominciano ad essere più semplici. Qua niente. Qua niente. Pugiamo la porta. Lockhead. Pugiamo chiavi, sicuramente un mazzo da quattro. Apri. Mmm, delle bare. Tante bare. Tante bare. Io adesso mi metterò... Tanto la magia del cure. La io prendo la taggiata. E controlliamole. Anche perché non vedo altro. È abbastanza molto particolare. Dio. Possibile che non c'è niente. No, non è possibile. Non ho controllato bene questo bale. Ah, chi fa? Let's get out. Andiamo fuori di qui. Di corsa, ragazzi. Di corsa. Di corsa proprio. Facciamo una cosa. Intanto salviamola. Ma quindi ci fanno tornare indietro a mano. Vabbè, andiamo indietro. Tanto ormai abbiamo capito quelle strade che non ci servono a niente. Andiamo di qua. Ah, un altro matto che ci fanno sprecate. Ma scusa, ma se io non ce l'avevo... Se io non ce l'avevo che fine facevo? Andiamo a sinistra. Sinistra. Andiamo di qua. Vai. Giù. Stanza del... Del... Da locanda questa. Così. E muori. Cut carry. Cut carry. Che cosa buttiamo? Mangiamoci una candy, va. Eh. Che tanto che metano? Un cure questi. Aio. Mi tengo una... Una candy evipaggiata, va. Muori. Guardi? Questi dando il pilo non mi serve tanto. Vai, vai. Andiamo qui. Quanta, quanta strada ci fanno fa. Via. Una catena. Andiamo giù. Il nostro glorioso seed. Un'avanza. Un pavido. Vai, vai, vai. Level up. Vediamo un po' cosa possiamo aumentare. Aumentiamo... Stamina, vai. Stamina. Can't carry. Aio. Non possiamo buttare? Una cosa proprio da buttare. Ah no, ci vuole faccio. Come can't carry? Ah, perché lo spazio della caramella? Ok. Ma buttiamo il pilo. Ci abbiamo troppi. Buttiamo il pilo. Intanto non sa che mi danno il pilo questi, no? Lì. Ho buttato un pilo per un pilo. Andiamo sopra. Mamma mia quanti topi e quanti cose. I fantocci. Via, 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 via. Mesti solo col fire. Ah, non è che si spingono però. Le postano switch. Mori. Mori. Si spingono bene. Mori. Mori, vuoi te? Ecco va. Ah, ragazzi, qua non ce l'avamo andato. Andiamo a sinistra. Andiamo spaccato di là. Non è che c'è qualche... qualche pezzo raro di rivolgiamento. Noi, questi fantocci. Spregare adesso maldia non me va. Vieni qua. La stanzetta è effettivamente chiusa. Tante volte quando sono chiuse, eh. O non c'è niente. Oppure qualcosa compare. Facciamo un bel fire, va. Perfetto, morite. Ho comprato un cazzo. Can't carry. Qua però mi sembra che si possa rompere. Aspettate un attimo, ragazzi. Vediamo se... Mottiamo un pillow. Un inutile pillow. Quindi ci danno... Ok, buono, ok. Ah, no, no. Rimoriamo dalla cassa. Stanza vuota. Stanza morta. Andiamo indietro. Morite. Can't carry. Questi ci danno il cure, tanto, sti aggeggi. Sti aggeggi ci danno il cure e noi buttiamo un altro pillow. A sto punto lo usiamo, va. Mi sono in muoio dal pillo, questi stronzi maledietti. Voglio prendere quel boletto. C'è però un cure. Ok. Mori. Andiamo di qua. Mori. Andiamo su. Ah, i vecchi pesci. È molto più forte della catena, eh. Andiamo giù. Le grate. Andiamo di qua. Questi fantocci maledetti. Voi direte, ma mutant fail, il file, no? Eppure voi avete ragione. Non l'ho messo. Ma fa culo, è ricerca fino a un certo punto. Mi spara dalla parte opposta. Mamma mia. Un spettacolo sto file. Mori. Questi lasciano le chiavi. Le chiavi a sto punto... Vabbè, salviamo già che ci siamo. Non era questo quello fare, però... Voglio buttare qualcos'altro. Un pillow. Buttiamo un pillow. Via. Impiniamo, ok. Ora abbiamo un bel mazzo, eh. Ora non ci finiscono. Mori, va. E io... Ok, sta succedendo qualcosa. Questa è la mia vittima. C'è un vampiro gigante. Vaffanculo. Mettiamoci subito. Cure. Vampiro gigante. Un pipistrellone. Mamma mia, 9 punti, 9 punti. Curandosi. A parte che lei mi cura. Mi sono dimenticato che lei mi fa curare. La faccio prima così. Qua è divina sta catena, mamma mia. Guarda come se ne sta a pia. Muori, muori. Ah, scoppiato, divino. Ahio, esplosione, potrei uccidermi. Defend vampire. Usate the magic book of sleep. Come ho imparato lo sleep. Come il pillo. Come il pillo. Are you all right, Ifa? Stai bene? Yeah. Wendel is to the sun. A sud. Brighiamoci. Ancora lampeggiante esce dal maniero per dirigersi a Wendel. Curiamoci. E salviamo a sto punto. Salviamo. E concludiamo qui la puntata di Mystic Quest. E alla prossima puntata, ragazzi. Ciao da Emma.